I genitori all'inizio si sono raccomandati perché essi hanno la paura dell'acqua e l'hanno ereditata da secoli, diciamo così, di mancanza di nuoto evidentemente. E poi a un certo momento ci hanno chiesto anche di aiutarli a sbloccare questi bambini da tutta quella serie di fobie, di paure che hanno, anche essi diciamo così, acquisiscono meglio nel momento in cui vengono a contatto con la società. Insegnare sport in una periferia di Roma come Pietralara significa tante cose, significa inclusione sociale, imparare i bambini a non aver paura del diverso, degli altri, comunque ci sono molte etnie diverse e vuol dire portare lo sport, nel mio caso uno sport da principesse in un quartiere difficile, vuol dire gioco, vuol dire passione, vuol dire impegno, sia un impegno economico per le famiglie che li sostengono e anche un investimento per il loro futuro. Le famiglie quando portano i bambini a fare sport si aspettano un ambiente sano, un ambiente in cui far crescere i propri figli, farli crescere come ho detto prima con dei valori, farli crescere con delle regole, educarli allo stare insieme e stare bene insieme, che non sempre nel contesto scolastico è possibile, ci sono degli schemi più rigidi, invece in uno sport gli stauri con i bambini sia un rapporto fisico che psicologico diverso, imparano anche il contatto fisico che è una cosa sicuramente positiva. Bambini di oggi, essendo legati a molti giocattoli virtuali, non si conoscono più, non si avvicinano più, hanno diffidenza tante volte all'inizio tra di loro, anche solo fare un cerchio e dare la mano alla bambina che hanno vicino può rappresentare un problema, un imbarazzo. Fare sport significa superare anche questo tipo di barriere.